Per me c'è il risonso che non ci vuole, è che non ci vuole, è che non c'è la cosa. Per me, le carte all'amore, è che chiediamo se è una cortesia alla zia. Alla zia? No! Non è possibile. Venga qua, va bene. Viglio Paolo! Vado! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.